C'è un'importante novità per le pazienti italiane che hanno un tumore al seno in stadio avanzato. L'Agenzia Italiana del Farmaco infatti ha appena dato il suo via libera a un nuovo farmaco che si chiama Ribociclib per il trattamento di queste pazienti. Noi ne parliamo con il professor Michelino De Laurentiis qui a Roma nella conferenza stampa in cui è stata annunciata la rimborsabilità concessa al farmaco da parte dell'AIFA. Ecco professore, per quali donne è indicato esattamente Ribociclib in Italia? È indicato per le donne che hanno un tumore mammario metastatico, ormonosensibile, che sono in postmenopausa, in uno stato di postmenopausa. In prima linea o in seconda linea? L'indicazione è attuale per la prima linea e quindi in pratica si tratta del primo trattamento che le donne dovrebbero ricevere quando sviluppano metastasi. Ecco, Ribociclib appartiene a una nuova classe di farmaci, quella dell'inibitore delle cicline. Ci può spiegare come agiscono? Sì, gli inibitori delle cicline o più correttamente inibitori delle chinasi ciclinodipendenti sono dei farmaci a bersaglio molecolare specifico che vanno ad interferire, modulandolo in maniera positiva, sul meccanismo di controllo della proliferazione cellulare delle cellule tumorali, che come sappiamo sono caratterizzate da una proliferazione non controllata. Le molecole colpite da questi farmaci sono in realtà il principale semaforo che normalmente indica alla cellula se proseguire o meno nella proliferazione. Questo semaforo è sregolato nelle cellule tumorali, quindi noi andiamo con questi farmaci a porlo in una condizione di rosso fisso, quindi impedendo alle cellule tumorali di proliferare e piuttosto mantenendolo in uno stato di quinescenza, addirittura indirizzandole verso la senescenza e la morte. Ecco, il Via Libera oggi dell'AIF e prima dell'Agenzia Europea dei Medicinali si basa sui risultati di uno studio che si chiama Monalisa 2. Come è stato fatto questo studio? Di che cosa si tratta? Si tratta di uno studio randomizzato fatto con i criteri più alti di evidenza scientifica in cui 668 donne che avevano le caratteristiche tipiche dell'indicazione, quindi donne in postmenopausa, con un tumore mammario in prima linea, metastatico, ormonosensibile, hanno ricevuto l'ormonoterapia da sola, che era lo standard terapeutico precedente, o l'ormonoterapia con l'aggiunta di Ribociclib. Ecco, che cosa ha dimostrato questo studio? Cioè che risultati ha dato e quindi quali sono i benefici che Ribociclib può dare in aggiunta all'ormonoterapia? Sì, i benefici sono stati veramente rilevanti perché si è osservato letteralmente un raddoppio del tempo di controllo della malattia, quello che noi chiamiamo progression free survival, che nella sua mediana si è attestata intorno ai 25 e più mesi, il che vuol dire che più del 50% delle nostre pazienti, hanno un controllo di malattia superiore ai 25 mesi. Ecco, come si posiziona questo nuovo farmaco Ribociclib nell'attuale scenario terapeutico per le pazienti con un tumore al seno? Ma si posiziona come il nuovo gold standard ovviamente, cioè non è più pensabile di dare, almeno alla maggior parte delle donne che hanno queste caratteristiche, un trattamento diverso. Questo sia in termini diminutivi, cioè solamente ormonoterapia, che andrebbe riservata veramente oramai a casi limite, ecco, per i quali si ritiene possa essere sufficiente un trattamento minimale, ma soprattutto va a sostituire anche buona parte di quelle terapie, chemioterapie, che ancora oggi purtroppo sono ampiamente utilizzate, seppur impropriamente in questa categoria di pazienti. Ecco, l'indicazione approvata dall'AIFA riguarda il presente di Ribociclib, ma cosa possiamo aspettarci per il futuro? Si stanno già sperimentando ulteriori impieghi di questo farmaco, in setting diversi, per esempio? Si stanno sperimentando e sono anche già state sperimentate nuove indicazioni che arriveranno, mi auguro, a breve, da sempre quelle nelle donne in premenopausa. Il Ribociclib è l'unico farmaco di questa nuova categoria che ha fatto uno studio specifico per le donne giovani in premenopausa, così come è già stato sperimentato l'utilizzo in linee successive o in pazienti comunque potenzialmente resistenti agli inibitori dell'aromatasi, ponendo il Ribociclib in combinazione con un altro farmaco ormonale che è il Fulvestrant. Poi c'è tutto il discorso dei trattamenti adiuvanti, cioè i trattamenti somministrati alle donne che hanno un tumore della mammella precoce, quindi entriamo in un altro ambito terapeutico. In queste donne si sta sperimentando il Ribociclib in aggiunta alla classica ormonoterapia adiuvanta. Ecco, e qui l'obiettivo ovviamente è quello di aumentare addirittura i tassi di guarigione.